Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In FIPILI in direzione Firenze code per lavori in corso tra Empoli ed Empoli Est. In direzione Livorno coda tra Ginesta Fiorentina ed Empoli Est. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli Est in direzione Firenze resta chiusa per lavori nella tratta Empoli Est-Montelupo-Fiorentino. Per questi lavori chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. In A1 coda per traffico in viaggio per Bologna tra Firenze Scandicci e Calenzano. Nella mattinata di oggi sarà effettuata a Firenze una manutenzione elettrica dei pannelli luminosi collocati in corrispondenza delle porte telematiche di ZTL e zone pedonali. Le limitazioni di accesso restano comunque in vigore. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!